In evidenza Il Comitato di Solidarietà, riunitosi il 1 giugno a Palazzo Lascaris, ha proposto al Consiglio regionale di stanziare 100.000 euro a favore delle popolazioni terremotate dell'Emilia-Romagna. Sentiamo il Presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo. Una festa della Repubblica nella solidarietà. Il Consiglio regionale del Piemonte ha stanziato nel proprio comitato 100.000 euro, che deriveranno dai risparmi del Consiglio regionale dei corsi della politica e che saranno destinati ai terremotati dell'Emilia-Romagna. Ma abbiamo anche messo in campo una grande operazione di solidarietà coinvolgendo la comunità piemontese con l'apertura di un conto corrente presso poste italiane in tutti gli uffici del Piemonte, dove i piemontesi potranno gratuitamente e senza spese dare un loro obolo, una loro partecipazione alla disgrazia importante di tante donne e tanti uomini di una comunità a noi vicina e a noi amica.